Impostore 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 Raga bisogna far subito la prima qua johnny viene verso di qua. Dov'è il mouse? No, non posso chiudere caffetteria. Oh, lui è andato indietro. Perché va sempre indietro johnny? Non capisco Johnny torna sempre indietro raga torna sempre indietro. Dobbiamo far subito la killing in elettrica Dobbiamo subito farla killing elettrica. Quanta gente c'è in elettrica? Che via mente Perfetto buono buono bene così mi qualche Ok ok bravo nico h se Ok ho trovato Senco morto in elettrica In chi c'era in elettrica raga ero solo io sono entrato e nico può confermare Ho visto qualcuno salire con me dietro dopo ma non ho visto chi era però io voglio io Sì che mancano scusate Un campo visivo più grande qualcuno sta mentendo Non me l'ha sentito di votarlo io Qualcuno ha già dei sospetti su nico h raga perché l'hanno appena votato e questa cosa non è che vada molto bene però va bene va bene raga non Non allarmiamoci vado verso destra questa volta sperando che qualcuno mi segua vado in navigation Faccio finta di farla con la cosa in navigation di prego ti prego ti prego ti prego piano piano C'è are qui io faccio questo vado a fare questo qua che sono otto secondi in teoria Ok otto secondi otto secondi ancora qualche secondo 3 2 1 io vado ok vado giù per fare sono le botte le telecamere accesa raga telecamere accesa stiamo attenti che stanno facendo C'è qualcuno che arriva non non arriva nessuno non arriva nessuno va bene va bene va bene così Va bene così c'è da fare non devo uccidere master raga non devo uccidere assolutamente master non devo uccidere assolutamente master è quello che voteremo dopo ok perché praticamente tutti hanno sospetti su master e e niente tutti hanno sospetti su master quindi sì sì diciamo che va bene sarà difficile vincere sarà questa partita sarà molto difficile vincere questa partita perché siamo tutti qua raga siamo veramente tutti qua che noi torniamo su devo uccidere mit raga devo uccidere mit sociale mi potrebbe salvare a master ma sarà il capo espiatorio raga master il capo espiatorio dov'è che ammitte in caffetteria in caffetteria o giù aspetta provando le giuste con ammitte che devo seguire mit raga devo seguire mit devo seguire mit alle vai via alle vai via scritto un po' ora ok scendo uh hanno fatto il reattore che top che il mago che è il mago nico h bravissimo bravo nico h bravo nico h 10 secondi si abbiamo vinto raga abbiamo vinto devo seguirne uno seguo master seguo master e facciamola che il su master seguo master e facciamola che il su master sbomba onestissimo finalmente dopo due ore il signor marci è un impostore e sarà l'imposto ragazzi l'imposto e quella lm e l andiamo lì dentro non voglio fare la doppia non la voglio fare raga non voglio farla doppia non voglio farla doppia non voglio farla doppia ma voglio farla doppia vediamo se c'è qualcuno in merda e un buono che via vento 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 ok andiamo di qua andiamo su 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 ottimo ottimo perfetto raga che kill che chi chi chiudiamo medbay per sicurezza Ok chiudiamo medbay per sicurezza vediamo un po che succede c'è martina in security La situazione è quella che è ragazzi la situazione è quella che è una situazione è proprio quella che è ok Vediamo un po la situation vado giù fabio lo lascio raga ho deciso che lascerò fabio vincere cioè non vincere però non voglio uccidere vediamo un po chi arriva da shields qua dovrebbe arrivare qualcuno sì 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 dove sei e matteo la gara proprio matteo ok Ok andiamo via andiamo via chiudiamo storage chiudiamo storage ok Uff dove la vendicherò No dai avete ripeto fuori e fabio Raga avevo detto che era l'unica regola Quel cappello Quel dannato cappello Quel dannatissimo cappello Quel dannatissimo cappello È una condanna quel cappello ragazzi No non lo so chi è stato ma vendicherò ferro è una promessa Ma dov'è la ferro scusa per chi può A medbay Aia Ma come sei stato tu Io Io non venivo da su Io non venivo da su Sì che dovevi venivi da su Ero ero il reattore sono salito in secondi in upper engine e sono risceso Ero in upper engine e sono risceso non venivo da su Ma io ho fatto io Marci dice di votare Nat così No scherzo No scherzo 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 Basta votare Nat Non votiamo Nat L'ho votato io Basta però Scusa Mamma mia Io raga votatemi ma Buona 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 raga Sono gli migliori impostori del mondo Non è vero Non è assolutamente vero raga Andiamo di qua Sì Teo Sì 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 Vediamo un po' che succede Ah facciamo così Andiamo in elettrica Facciamoci una bella doppia in elettrica Togliamo le luci fra pochissimo Vediamo un po' se succede qualcosa Togliamo le luci tipo No ha fatto ha fatto quello Che qui c'è Martina Buono il fatto che ci sia Martina qua C'è anche Steph qua C'è anche Steph qua Teo Teo Vai Teo 1 2 Vent Raga ma vinciamo per il reattore Raga il reattore Mamma mia No vincere per il reattore No raga vincere per il reattore Anche no Vincere per il reattore Anche no Chiudiamo elettrica Chiudiamo elettrica Facciamo la doppia qui Vieni con i commessi Bravissimi Bravissimi Vai Marci Marci cosa è stato loco ucciderlo Sono sempre stato insieme Anico per tutte le partite Io ho visto cadere il cadavere Io ho visto 4 persone una sopra l'altra Ammassate Chi voti Nat? No Chi hai votato? Beh te lo dico Ma raga non so stato io Dai non votate me Non rompete Io vi dico che lo ho visto Ma dov'è che era? Era davanti elettrica Io ho preso Ma è impossibile Era min qua Boh non ho capito Eram andanti alla porta Teo Allora è stato Nat Ma era già morto? Teo è stato Nat Perché mi ha Mi ha accusato Ma sei serio? Io ho votato Marci Io ero appena arrivato Teo Nat Nat Loco i voti? Vabbè Ho votato me Io ho votato Marci E' Nat per forza Va bene Sono io Vabbè Comarci Oh ma Vendetta Ero il reattore E Loco mi ha vendato in faccia Sei stato te Xiao? Che bugiato che sei Xiao Ti spiace Loco Non posso copirti Dai Hai stato Xiao? Bravi Ma che state facendo? Mi dispiace Loco Raga l'unica da impostore Io copro tutti Nessuno mi copre Incredibile Vabbè Devo ricordarmi Non uccidere stessi Mi avrei proprio coperto Un sacco di volentieri